La squadra è che ci capiranno di che pasta siamo fatti. All'attacco! Sì, c'è una pausa! Stiamo perdendo! Non ce la farai! Stiamo vincendo! In un certo tempo, Come come to discover a new life! I can't ignore! The fleets are dead! Come on, why can't I win? In my feet! Arraise him! Colpo perfetto! Delivo lo spio, nemico! Ci stanno schiacciando! Ci nascondono che non punte! Approvvigionamento nemico! Non devo lo riportirlo! Bombardamento nemico! Marparo! Delivo lo spio, approvvigionamento pronto! Stiamo vincendo! È un lanciafiamme nemico! Approvvigionamento in arrivo! Proteggere la zona di lancio! Mettere i bersagni! Appartamento incendiario pronto! Bombardiere in zona! Attacco incendiario imminente! Volo di ricognizione concluso! Approvvigionamento pronto! Segnalare la zona di lancio! Approvvigionamento pronto! Approvvigionamento in arrivo! Proteggere la zona di lancio! Approvvigionamento in arrivo! Allora riparo! Attacco del pilota di caccia in corso! Volo di ricognizione concluso! Prossimo lavoro! Ora andate a ricocillarvi! Non siete meritati! Movistare la zona di montaggio! Vele marchito il respiro! Fanate in corso! E veste sotto! Ja! Perché坐are il nostro